Assessore Cozzi, una decisione nata per venire incontro agli esercenti? Sì, anche l'anno scorso per il periodo estivo abbiamo deliberato di giunta un provvedimento che rende più agevole sia come modulistico che come procedimento la posizione di tipo leggero, di attrezzamento leggero sul territorio comunale. È un modo per venire incontro a quelle che sono le esigenze, sappiamo anche bene che il regolamento che abbiamo approvato l'anno scorso per le autorizzazioni definitive è molto più complesso e anche più lungo come tempistiche. Con questa delibera abbiamo anche dato un atto di indirizzo agli uffici perché dopo un anno di esperienza del regolamento attuato abbiamo visto che qualche criticità deve essere un pochettino rivista, quindi c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione. È bene dire che i regolamenti nel momento in cui vengono approvati di fatto richiedono degli adeguamenti e delle migliorie e degli aggiustamenti. Visto anche il momento della difficoltà economica sappiamo bene che qualche piccola problematica si è creata, però sta di fatto che siamo soddisfatti perché il 75% delle situazioni ormai sono in corso di sanatorio oppure si sono sanate e quindi siamo abbastanza soddisfatti ed aperti anche ad eventuali aggiustamenti delle criticità. Grazie.